La ricerca scientifica in Italia è sospesa in un limbo di incertezze, con l'università costretta in una logica aziendale ad esprimersi con una produzione standardizzata, valutata in termini puramente quantitativi. In questo contesto lavorativo, oltre che culturale e sociale, si colloca l'annoso problema della discriminazione di genere mai realmente affrontato. Nonostante i recenti passi in avanti, le scienziate italiane sono lontane dall'eguagliare per cariche e progressioni di carriera i colleghi maschi. Il fatto che l'ambiente accademico sia per definizione culturalmente più avanzato non aiuta, anzi risente ancora di più del pregiudizio secondo cui le donne siano più studiose e quindi candidati ideali per i ruoli intermedi e non per quelli apicali. Care ragazze, non arrendetevi, se fate fronte comune potete essere forti quanto i più degli uomini senza rinunciare alla vostra femminilità. A volte alle donne è chiesto proprio questo, quello di assumere una facciata mascolina che faccia loro perdonare l'intrusione in un mondo a maggioranza maschile. Sensibilità, intuito, empatia, capacità comunicative sono tutte doti al femminile da coltivare invece di adottare strategie maschili più aggressive, a noi meno congeniali, pertanto destinate ad un sicuro fallimento. Ovviamente si devono accompagnare a idee innovative che scaturiscono da un paziente lavoro, di studio e di ricerca. È così che si abbatte il muro della discriminazione di genere e allora raggiungere i propri obiettivi diventa solo questione di come e di quando, non di sé. Rinunciare non è un'opzione, la ricerca ha bisogno di voi.